Ciao a tutti, mi si chiede un consiglio in questi giorni di quarantena forzata su letture, video, qualcosa da fare di bello in questi giorni in cui siamo costretti a rimanere a casa. Sono tante, io mi auguro che ognuno di voi abbia la sua passione da poter coltivare, le passioni possono essere tante. Io ad esempio ne sto approfittando per mettere a posto il mio archivio, ho avuto la possibilità in questi giorni di sistemare un archivio che da anni avevo lasciato un po' in disordine, di tutti i libri, le riviste, i film, i cd, insomma tutte quelle cose che hanno a che fare con il mio lavoro, specificatamente quello di editore, di promotore editoriale, ma anche con le mie passioni personali, ecco la mia storia. In questi tre giorni, non ve lo posso far vedere adesso perché non è nella casa in cui sto, però ho avuto la possibilità di metterlo a posto. E allora ho riscoperto tante cose che mi piacerebbe andare a rileggere, ad esempio, che ne so, questo bel libro, un libro che io avevo in una scatola che non riuscivo ad accederci da tempo, l'ho recuperato e adesso ne approfitterò per leggerlo in questi giorni. Se non smettiamo di lavorare con il telelavoro da casa, appunto, però abbiamo la possibilità, grazie al tempo recuperato, di leggere, e questo penso che sia banale, semplice, ma importante, recuperare un po' di tempo per leggere. Ci sono i libri, ma ad esempio, non lo so, un consiglio di lettura, visto che le edicole sono ancora aperte, vi consiglio a tutti questo nuovo numero di Dilan Dog, io non leggo Dilan Dog mensilmente, però qua c'è un ritorno di Roberto Recchioni a scrivere Dilan Dog su un'idea di Tiziano Sclavi. Per gli amanti del genere, per chi un po' se ne intende, Recchioni e Sclavi insieme che ritornano su Dilan Dog è un'esperienza sicuramente piacevole, ed è un altro bellissimo modo per passare un po' di tempo. Altro? Beh, visto che non si può viaggiare, si può viaggiare con la mente. Ho recuperato, ne ho una serie di questi book da illustrare, questi sketchbook, insomma, queste sono, ce ne sono una serie un po' di tutte le città, non so di Rimini, però sicuramente ci sono delle grandi città, per cui visitare le grandi città attraverso un coloring book, la possibilità di disegnare, colorare e illustrare queste città, a me piace ed è sicuramente una cosa che farò in questi giorni insieme al mio bambino, e questo ovviamente per chi ha questa fortuna, giocare con i bambini, penso che questa sia veramente una delle occupazioni più belle a cui ci si possa dedicare in questo tempo ritrovato. Un'altra cosa che ho recuperato e che farò in questi giorni è questo puzzle, io penso che fare un puzzle sia sempre simpatico, interessante, intelligente, ed è un bel passatempo. Io ne ho trovato uno complicatissimo, dedicato a Yellow Submarine dei Beatles, non so se riuscirò a farlo perché penso che sia veramente complicatissimo, sono mille pezzi, però ci proverò. E scoprire i classici, i classici in DVD, i classici che sono disponibili in streaming, l'altro giorno la Rai ha mandato la nuova puntata inedita di Montalbano, io sono storicamente un fan del Montalbano di Zingaretti e di Sironi, e credo che mi riguarderò tutta la serie, sono circa 25 o 30 sceneggiati, no, forse anche 40 oramai, e mi piace, allora ho pensato che se ho tempo, se ci riesco, tra le tante cose, mi riguarderò tutti in Montalbano. Non ho approfittato in questi giorni anche per rinnovare, per ritornare sui miei account Mixcloud e Soundcloud, in particolare su Mixcloud ho possibilità di accedere a tantissimi mix di DJ, di musicisti, di artisti, che su questa piattaforma in streaming propongono delle selezioni musicali. Mixcloud lo consiglio, lo consiglio perché a differenza magari di altre piattaforme ci può far scoprire cose inedite o comunque più originali, più d'artista, ma ovviamente la musica come la letteratura e come il cinema penso che ci possa regalare veramente delle grandissime emozioni in questi giorni, riscoprire insomma la possibilità di andare a rileggere anche cose che abbiamo magari dimenticato, che è sempre un piacere rileggere, piuttosto che, come nel caso mio, penso che non sarò l'unico, se ci sono degli accumulatori compulsivi, ecco, questa forse è l'occasione per andare a leggere, ad ascoltare, a guardare, a capire, a conoscere le tantissime cose che vorremmo conoscere, che abbiamo sempre una grande ansia di conoscere. In bocca al lupo ce la faremo.